Al Torino di Gnadello Beach abbiamo anche tanti piccoli giocatori, calciatori che adesso ci diranno il loro nome e il loro ruolo. Iniziamo da... Mirko, gioco ad Arzago e gioco in ala sinistra. Mattia, gioco nell'Arzago e faccio l'attaccante. Gabriele, gioco qua in Gnadello e faccio il centrocampista centrale. Manuel, gioco nel Vailate B e... Ah, è il difensore. Mi chiamo Jacopo, gioco nel Vailate e faccio il centrocampista. Mi chiamo Thomas, faccio il centrocampista alla destra. Mi chiamo Federico, gioco ad Arzago e faccio un po' il T. Mi chiamo Danny, gioco nella Gnadello e faccio il centrocampista.